Cari amici, benvenuti. Oggi vorrei parlarvi di un problema sempre più importante, il problema della crisi liturgica nella Chiesa Cattolica, il problema della nuova messa, la messa di Paolo VI, che introdotta alla fine degli anni Sessanta ha di fatto concorso a generare una gravissima crisi della Chiesa, soprattutto a livello di partecipazione alla messa. Come sapete la frequenza della messa domenicale è calata costantemente nel corso degli ultimi 40 anni, scendendo a percentuali in alcuni paesi inquietanti. In Francia sono praticanti solo il 4% dei francesi, quindi una percentuale irrisoria, ma anche nei paesi dove la frequenza della messa è più consistente comunque è scesa a livelli davvero davvero preoccupanti, molto bassi, in genere sotto il 20% degli abitanti. E questa crisi, questa crisi ha oltre ad altre ragioni sociologiche, storiche, ha senz'altro l'introduzione di una messa, la messa detta di Paolo VI, che è stata costruita in modo artificiale che ha rotto completamente i ponti con la millenaria tradizione liturgica della Chiesa cattolica. La nuova messa, la messa di Paolo VI, ha introdotto delle variazioni gravissime, molto forti. Per esempio il sacerdote prima della riforma celebrava verso l'altare, adesso celebra verso il popolo. La comunione era sempre stata data da sacerdote in bocca al fedele, ora invece viene per lo più data sulle mani del fedele. Sono state tolte le balaustre e cambiati tutti i segni della tradizione liturgica cattolica. È interessante notare come moltissimi dei cambiamenti introdotti da Paolo VI, dalla messa di Paolo VI, ricordano i cambiamenti realizzati per esempio nel Cinquecento da Lutero, che quando attaccò la messa cattolica, la messa di sempre, di fatto introdusse molte delle modifiche che Paolo VI introdusse con la sua messa nuova, artificiale. Quindi questa messa ha suscitato da subito dei dubbi molto seri in importanti autorevoli rappresentanti della gerarchia cattolica. Memorabile resta il breve esame critico del Novo Sordo Misse, firmato dai cardinali Ottaviani e Bacci, e ricordiamo che il cardinal Ottaviani era il prefetto del Santo Uffizio, quindi era il custode della dottrina cattolica. In particolare il documento Ottaviani e Bacci denunciava l'allontanamento impressionante della nuova liturgia dalla tradizione cattolica, dalla dottrina cattolica, dalla Santa Messa. Questa messa ha oscurato il valore di rinnovamento del Santo Sacrificio della liturgia cattolica, della Santa Messa cattolica, e ha introdotto una sorta di cena protestante, tanto che l'altare appunto non è più un'ara sacrificale dove viene rinnovato il sacrificio di Cristo, ma è diventato una tavola su cui si svolge in un certo senso una cerimonia che è modellata sull'ultima cena e non più sul Golgotha, non più sul sacrificio della croce. Quindi tutti questi elementi fanno sì che oggi la Messa di Paolo VI, la Messa introdotta da Paolo VI sia fonte di un gravissimo disordine, anche perché è una Messa che viene celebrata in modi molto vari, in modi molto diversi, con le più fantasiose innovazioni introdotte da ogni singolo sacerdote e se si vuole tornare a una crescita dei fedeli che partecipano alla funzione domenicale, se si vuole porre fine alla crisi che travaglia la Chiesa cattolica, è indubbio che occorra anche riscoprire la liturgia tradizionale e tornare alla Messa di sempre. Per capire questo problema, il problema della nuova liturgia di Paolo VI, dei suoi problemi, dei suoi difetti e dei problemi di coscienza che pone ai cattolici che vogliono testimoniare la loro fede anche partecipando a un rito sicuramente cattolico, abbiamo invitato sul nostro canale un esperto appunto di questi temi, un esperto di liturgia che adesso appunto vi presento. Benvenuti, oggi abbiamo un ospite Don Mauro Tranquillo della Fraternità San Pio X che gentilmente ha accettato il nostro invito per parlarci di liturgia, in particolare ci soffermeremo sulla crisi liturgica odierna e sul significato della Messa, della Santa Messa cattolica. Don Mauro benvenuto, buona giornata. Buona giornata a voi tutti, grazie. Don Mauro, ecco, la presento brevemente, il nostro ospite è sacerdote dal 2002, attualmente opera a Lanzago di Silea, è sacerdote della Fraternità San Pio X e si è dedicato in modo particolare, tra gli altri temi, all'approfondimento del significato della liturgia cattolica, della Santa Messa, della Santa Messa cattolica. Ecco, Don Mauro, possiamo iniziare la nostra chiacchierata, diciamo, chiarendo per tutti i nostri ascoltatori il significato, diciamo, della Santa Messa in generale, significato per la Chiesa della Santa Messa cattolica? Sì, secondo la dottrina del Concilio di Trento, quindi la dottrina della Chiesa che si basa su tutta la tradizione dei padri e ovviamente sulla rivelazione, la Messa è lo stesso atto del sacrificio di nostro Signore Gesù Cristo sulla croce che viene ripresentato, cioè non solo raccontato, ma reso presente. Quindi nella Messa noi assistiamo al rinnovamento, alla ripresentazione, dice il Concilio di Trento con questo termine molto chiaro, del sacrificio della croce, semplicemente invece che avvenire in modo cruento, avviene in un modo che viene definito incruento, cioè sotto le apparenze sacramentali, misteriche del pane e del vino che diventano naturalmente il corpo e il sangue di nostro Signore. Quella separazione del corpo del sangue, che è il sacrificio stesso di Gesù Cristo, il dono della sua vita semplicemente, che avviene sulla croce in modo appunto cruento, nella Messa avviene sotto le apparenze, sotto la separazione per così dire, di un elemento solido e di un elemento liquido consacrati separatamente. Nella doppia consacrazione, prima del pane e poi del vino, che diventano il corpo e il sangue, abbiamo questa ripresentazione stesso sacerdote, quindi Gesù Cristo offre sempre se stesso, la stessa vittima, sempre se stesso al Padre in riparazione dei nostri peccati per ottenerci la grazia, certo in adorazione e ringraziamento per tutti i benefici che riceviamo da Dio. Per questo viene chiamata anche Eucaristia appunto ringraziamento. Nella Messa quei beni, questi beni che Gesù Cristo ha acquistato sulla croce, sono messi a nostra disposizione, dei singoli fedeli che partecipano, comunicando si partecipa nel modo certo più completo, ma anche semplicemente assistendo alla Messa. E Gesù Cristo ci raggiunge tramite questo, è l'atto di culto per eccellenza, quindi la Chiesa esiste in un certo modo per celebrare la Messa nell'antico sistema della Chiesa, quando tutto ancora vigeva nel suo ordine completo, si potrebbe dire che tutte le istituzioni della Chiesa dovevano semplicemente favorire e permettere lo svolgimento del culto e la partecipazione ad esso e ricevere i beni spirituali che da esso derivano, cioè tutta l'organizzazione della Chiesa doveva favorire e lo svolgimento del culto, anche l'organizzazione materiale e la fruttuosa partecipazione a questo da parte di tutti. Il cuore è quello per cui tutto si svolge. Tutto è sempre stato svolto attorno al santo sacrificio della Messa, ma di conseguenza anche la vita del sacerdote, il sacerdozio per lo stesso motivo dovrebbe ruotare, ha sempre ruotato attorno alla santa Eucaristia. Certo, secondo la dottrina della Chiesa non si concepisce il sacerdozio se non in funzione dell'offerta della Messa. Dell'offerta di questo sacrificio il sacerdote uomo, l'uomo che è ordinato sacerdote, partecipa dell'unico sacerdozio che è quello di Gesù Cristo, ne è come il prolungamento. Si inserisce in questa unione tra l'uomo e Dio che è la persona stessa del verbo incarnato e continua questa opera. Quindi esiste unicamente il suo potere sacerdotale si definisce con la consacrazione dell'ostia. Le altre facoltà del sacerdote della confessione sono solo una conseguenza per preparare l'anima a ricevere l'Eucaristia togliendo tutti gli ostacoli, compreso quello più grande che è il peccato mortale. Ma tutto si concepisce intorno a questo, né si può parlare di sacerdozio senza l'offerta di un sacrificio che è quello della Messa. C'è proprio una totale continuità tra le due cose. Tutte le altre attività i sacerdote preparano questa necessariamente. Mi viene spontaneo un commento, ma mi dica se sbaglio, in un certo senso la crisi moderna della Messa di Paolo VI non può non portare a una crisi anche del sacerdozio, perché di fatto se svuoto la Messa del suo proprium, del suo senso, in qualche modo anche il sacerdote diventa decentrato, non ha più al suo centro la Santa Messa. Certo, tenendo conto che, forse ne parleremo, ma una delle cose più chiare della nuova Messa è proprio la diminuzione, l'ambiguità sul ruolo del sacerdote nella celebrazione, che appariva in un modo eccessivamente chiaro, direi, nella Messa tradizionale, in tutte le Messe tradizionali di Ritroumano e di altri riti. La cosa più comune e più chiara era il ruolo unico del sacerdote, che appariva in un modo eclatante dai tempi apostolici. Questo è stato svuotato in un senso protestante, sicuramente ne diremo dopo, e quindi il sacerdote si ritrova senza la cosa più fondamentale del suo ministero, che gli dà un'identità, come si dice oggi. E questo fa sì che, è ovvio, che ci si trovi a fare tutt'altro e a dire tutt'altro. La cura, per esempio, che l'antica liturgia richiede al sacerdote in tante cose che possono sembrare delle minuzie, in realtà è un modo molto pratico che la Chiesa aveva per concentrare i sacerdote su ciò che era veramente importante nella sua vita. Quindi la necessità di conoscere regole, eccetera, che ruotano intorno all'espressione dei misteri della fede, non sono certo gratuite, ma la minuzia in queste cose era quasi un modo catechetico, se si può dire così, per spingere i sacerdote a essere concentrato su quello che era il suo vero compito. A fare continuamente memoria di questo compito centrale. Don Mauro, un'altra osservazione, ma se è al centro della vita della Chiesa, è al centro del sacerdozio rettamente inteso, ci può spiegare brevemente in che senso però è veramente al centro anche della vita spirituale, della crescita spirituale di ogni singolo fedele, anche laico? Certo. Chiaro che qual è lo scopo della vita spirituale, di qualsiasi fedele della vita del cristiano, se non incontrare il nostro Signore Gesù Cristo, unirsi al nostro Signore Gesù Cristo spiritualmente, per quanto ci è dato in questo mondo. Non c'è unione più grande che la comunione. La comunione è la massima partecipazione all'atto della messa. Si può dire che tutta la vita cristiana, anche le buone opere, l'impegno cristiano nella vita corrente di tutti i giorni, sono funzionali a essere sempre pronti e preparati a ricevere Gesù Cristo qua giù nell'Eucarestia, quindi ad assistere alla messa e a sua volta il pegno dell'incontro futuro nel Paradiso. Quindi è ovvio che la messa è da un lato lo scopo di tutta la vita cristiana e dall'altro il mezzo per poterla realizzare, perché senza la grazia di Dio che viene necessariamente dal sacrificio di Gesù Cristo, io non posso realizzare nulla della vita cristiana. Secondo le parole di nostro Signore, senza di me non potete fare una vita cristiana possibile senza il culto, senza la messa che ne ha al tempo stesso il punto di arrivo e la condizione per poterla praticare. Le chiedevo a questo punto di, vorrei entrare nel vivo diciamo del nostro colloquio, cercando di sottolineare, capire quali possono essere i segni oggettivi, riconoscibili da tutte le persone diciamo di buona volontà, che dimostrano che oggi c'è una crisi liturgica gravissima, cioè che la messa detta di Paolo VI, la messa frutto del formato di Paolo VI, ha prodotto una crisi, penso senza precedenti secondo me, e comunque ha prodotto una ferita, un vulnus nella tradizione della Chiesa sul piano liturgico. Quali sono i segni che denotano la realtà, l'oggettività della crisi, la sua gravità? Sì, i segni sono legati soprattutto alla questione di che cosa la messa vuole, il rito della messa, i gesti della messa, le parole, i gesti, tutto quello che è un rito appunto, vogliono arrivare ad esprimere. Al di là dell'atto sacramentale come tale, tutto quello che lo circonda dovrebbe significare le cose che abbiamo detto, la realtà del sacerdozio, la realtà del sacrificio, la realtà della presenza reale nell'ostia consacrata. Quindi i gesti, i modi di fare, le azioni, eccetera, ci portano a esprimere la nostra fede in queste realtà. Dal momento in cui io concepisco un rito artificiale, perché tale è la messa di Paolo VI, costruita da degli esperti a tavolino, poi forse ne accenderemo anche a questo, ma con lo scopo preciso, dichiarato anche dallo stesso Paolo VI, di avvicinarmi ai protestanti che hanno il rifiuto di queste realtà, di queste verità della fede, anzi è la loro specificità non credere a queste cose, precisamente a queste. Se il mio scopo per costruire una messa, un rito, che si avvicini a quelle concezioni, è ovvio che verrà a mancare tutto quanto. E' impressionante il fatto che la nuova messa è stata ridefinita, non è solo quello che abbiamo detto, la definizione del Concilio di Trento, che si trovavano in qualsiasi catechismo e che si trovano nei padri della Chiesa, della messa come sacrificio della croce, è ribaltato. La nuova messa si definisce in un primo tempo addirittura come la cena del Signore o messa è la sacra riunione o assemblea del popolo di Dio che si raduna. Questo non ha niente a che vedere con il sacrificio di Gesù Cristo, che non è la cena del Signore che al massimo fu l'anticipazione del sacrificio, no? Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue che sarà offerto. Non si può prendere solo la materia di quel gesto, ma devi sentire anche le parole che danno il senso e le parole sono sacrificali al massimo grado. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue che sarà versato per voi e per molti, remissione dei peccati. Quindi non è una cena in nessun senso, se non simbolico del termine, è proprio un sacrificio. Ma se noi la definiamo come cena del Signore e riunione, assemblea del popolo di Dio, l'assemblea del popolo di Dio ha niente a che vedere con la messa. La messa è il sacrificio di Gesù Cristo, offerto tramite il sacerdote uomo, diciamo così, che sta al posto del Cristo come suo strumento e che da lì dà la grazia al popolo che si riunisce effettivamente. Ma non è l'attore di questo atto. Chi compie l'atto della messa non è il popolo riunito, in nessun senso del termine, è un ricettore al massimo. C'è quindi una teologia, diciamo, proprio in un certo senso errata fin dal principio, ma i segni, diciamo, esteriori, i segni visibili a colpo d'occhio da un fedele di buona volontà che entra e vede una messa di Paolo VI, ha qualche segno che denota la non piena cattolicità. Se lei, ma la cosa a mio avviso è evidente in tutte le forme che la messa di Paolo VI assume, perché noi vediamo ovviamente sacerdoti e parrocchie cerebrare questo rito in modi spesso molto disparati, perché ci sia un'unità di libro e anche di fondo, vi è spesso una grande quantità di interpretazioni, no? Proprio quasi in senso teatrale del termine. Però tutti hanno in comune, cosa che fa nel testo e nelle forme di quel libro di Paolo VI, la totale diminuzione appunto del ruolo del sacerdote che appare come uno che dirige un'azione corale, no? E questo, proprio qui volevo arrivare, non è il senso cattolico della messa, non c'è un'azione corale, non c'è la messa, non è l'azione di un'assemblea in cui tutti fanno qualche cosa in cui tutti devono necessariamente agire, tutti devono ricevere, assistere, essere disposti, eccetera, ma non c'è un'azione in senso vero del termine del battizzato, c'è un'azione del Cristo tramite il sacerdote e se uno vede la nuova messa si struttura proprio come un'azione comunitaria e si sa quanto si insiste su questo nelle parrocchie, nei luoghi dove la nuova messa è abitualmente celebrata, si insiste eccessivamente sul fatto che l'azione è della comunità, tutto il rito ruota intorno a questo. Qui c'è proprio una concezione che non ha a che vedere con la teologia cattolica, che poi questa riunione riesca bene, male, ci siano molti abusi, molte cose strane, oppure sia molto elegante, ordinata, come in qualche caso avviene, questo non toglie il fatto che la si concepisce prima di tutto come azione di comunità e non come l'azione del Cristo. Questo è molto chiaro, a mio avviso, più chiaro del resto, ci sono altri problemi appunto. Questo, la ringrazio, in effetti è molto chiara l'osservazione, è un po' il discorso del sacerdote che diventa presidente dell'assemblea più che vero alter Christus, ma si può dire però se ci fosse fatta l'obiezione che in fondo anche nella messa tradizionale il fedele in qualche modo deve partecipare per unire sé alla croce di Cristo, diciamo così, unire le proprie... ecco, qual è la differenza fra l'unirsi a Cristo crocifisso misticamente, diciamo spiritualmente, e l'assemblearismo della nuova liturgia? Ma qui c'è proprio una questione sia teologica sia appunto di gesti liturgici totalmente diversa. L'antica liturgia di per sé non dice mai al fedele, sembra un paradosso, ma è così, che cosa deve fare. Nelle rubriche, nelle leggi dell'antica messa non c'è mai scritto i fedeli faranno questo, i fedeli faranno quello. C'è scritto i sacerdoti, i ministri, cioè gli altri ministri ordinati, i diaconi, i su diaconi, eccetera, faranno alcune cose a cui non si dice che cosa debbano fare le persone. La nuova messa è tutta costruita su cosa fa l'assemblea insieme al sacerdote ed è specificato nella struttura, nelle leggi diciamo così di questo rito. Molto interessante questo perché fa capire questa differenza così profonda. Il fedele che partecipa alla messa tridentina, alla messa tradizionale, nel concetto tradizionale semplicemente della dottrina classica, certo partecipa alla messa ma in che senso? Prende parte in quanto battezzato alla capacità, il potere, un vero potere di ricevere le grazie della messa quando la sua anima è ben disposta, si avvicina al rito, ad assistere al rito come se si avvicinasse al sacrificio della croce, come se fosse sul calvario. Vi è un fondo qualche cosa di molto più interiore e se capite bene il termine di passivo, ma che senso passivo? Io sono adatto come fedele a ricevere. Il mio carattere battesimale mi permette di ricevere dal culto. c'è un potere di ricevere che un non battezzato non può avere e questo è espresso da questo fatto che io devo fare delle cose per poter partecipare, devo essere lì e disposto interiormente. Certo poi il fedele anche alla messa tradizionale a volte può rispondere o fare alcune cose, ma questo è accessorio, è un mezzo per uno scopo interiore, non è la struttura del rito. Questa è la grande differenza. La nuova messa è strutturata sulla partecipazione corale dell'assemblea. La vecchia messa non dice al fedele cosa deve fare per costruire la messa, ma come deve vivere interiormente. E qui c'è già, mi correga se sbaglio, ma si potrebbe dire che risuona un po' sinistramente il malinteso tema del sacerdozio universale luterano, cioè in altre parole lo svilimento della differenza tra ordine consacrato, sacerdozio e fedele è un po' l'essenza del Vaticano II, del concilio Vaticano II e della nuova liturgia. Si potrebbe dire così? Questo concetto appare di fatto in Lumen Gentium, quindi nel concilio, sebbene in termini non del tutto chiari, ma l'idea che vi sia un sacerdozio comune dal quale escono fuori il sacerdozio dei battezzati e quello dei ministri, è molto chiaro, c'è, è presente nel concilio ed è presente nel modo in cui è costruita la nuova messa. Nella dottrina tradizionale quando si può parlare in un certo senso del sacerdozio dei fedeli, purché si capisca che è un termine totalmente analogico, cioè non abbiamo un genere di sacerdozio che ha due specie, quello dei ministri è quello, è un termine che usiamo anche per i fedeli ma in tutt'altro senso, non come colui che può offrire il sacrificio a nome del Cristo, eccetera, ma come colui che è in grado di ricevere la santificazione, eccetera, in un senso del tutto, non voglio dire metaforico, ma certamente molto analogico rispetto a quello proprio in senso stretto con cui lo usiamo per i ministri del culto, per i sacerdoti, appunto, i preti, i vescovi, eccetera. A questo punto, visto l'evidenza in un certo senso della devianza della nuova messa di Paolo VI rispetto a tutta la tradizione della Chiesa, come potremmo definire i problemi, i dubbi che in coscienza possono sorgere per un fedele, per un cattolico di fronte al fatto che la larga maggioranza delle diocesi, delle parrocchie gli offrono di fatto questa messa, cioè un fedele che ha la buona volontà, che incomincia a rendersi conto di questi problemi, cosa dovrebbe fare, come deve rapportarsi a questo problema, stanto la scarsità anche di messa e di sempre. Certo, qui è chiaro che ognuno deve formare la propria coscienza per capire qual è il suo dovere su una materia così grave, perché qui la materia qual è esattamente? Come io devo manifestare all'esterno la fede che devo avere dentro di me, quindi se io devo credere a quei dogmi, il sacerdozio, il sacrificio, la presenza reale, anche questo è un altro dei grandi problemi della nuova messa, devo anche partecipare a un rito che manifesti queste cose, non posso manifestare a un rito che qualche volta le dice in modo ambiguo e in molti casi sostanzialmente le nega, non le mostra, io non posso fare una cosa cattiva che va contro quello che devo credere. Se io devo manifestare all'esterno la mia fede, in un rito, in una preghiera, nell'assistenza una cerimonia, questa deve essere sempre limpida, non può essere una cosa che non si sa bene che cosa stiamo facendo, cosa stiamo facendo. Equivoco, equivoco o dubbia. Esatto, è impossibile, la Chiesa condanna con molta severità questo tipo di atteggiamento, perché la professione di fede deve essere limpida, senza indugi, senza mancanza di chiarezza, poi ripeto, purtroppo molte nuove messe non sono solo ambigue, sono molto a di là dell'ambiguità, ci sono chiaramente delle negazioni delle verità della fede, faccio un esempio che mi viene in mente che oggi è pane quotidiano, si trova ovunque, che cozza con la laudrina cattolica in modo inequivocabile stavolta, far distribuire la comunione a dei laici, è contro un dogma del concilio di Trento che mi insegna che non solo la consacrazione ma anche la distribuzione dell'eucaristia appartengono al potere del sacramento dell'ordine. Quindi un fedele, perché deve andare a una cerimonia in cui avviene questo? Uno può dire ma io vado a fare la comunione dal prete, sì ma con la tua presenza lì tu accetti questo legittimo, magari esternamente tu sei ancora limpido, ma esternamente stai accettando qualche cosa, mostrando di accettare qualcosa e questo non è possibile moralmente. Allora un male non si può fare mai, nemmeno per un motivo molto grave, questo ci insegna la nostra morale ovviamente cristiana di rettitudine. Quindi se io non posso fare mai un male non c'è un caso in cui è giusto che io vada a questo rito, piuttosto se la mia situazione è tale che mi è totalmente impossibile assistere alla messa tradizionale è sempre meglio che io non assista alla messa, piuttosto che andare ad un rito in cui rischio di mettere la mia manifestazione di fede in dubbio. Quindi di professare delle cose che non sono propriamente la dottrina della chiesa. Ci sono quei casi, mi correga se sbaglio, la teologia tratta i casi in cui doveri sociali molto alti, il matrimonio di un parente strettissimo, un funerale, legittimano una presenza passiva mi sembra di ricordare, cioè molto passiva magari dicendo un rosario e cercando di non ricevere scandalo da quanto si vede sull'altare. Sì, diciamo è un'analogia con quello che la teologia morale dice a proposito e anche il magistrato dei papi in questo caso dice a proposito dell'assistenza appunto a dei riti non cattolici. È ovvio che un cattolico strettamente, la chiesa proibisce di assistere a riti non cattolici, chiaramente normalmente se ne parla per i riti dei protestanti, degli ortodossi o dei musulmani, quello che si vuole, qualsiasi cerimonia non cattolica non può essere da noi partecipata contro il primo comandamento, perché manifesterei di accettare quello che avviene lì, tantomeno parteciparvi attivamente. Allora si dice che nel caso io debba essere presente in questo caso fisicamente, diciamo per una circostanza particolare, appunto un matrimonio, un funerale eccetera, quindi per un motivo vero, grave, io posso andare ma senza fare nessuna azione di partecipazione, restando in modo molto passivo, quindi immobile diciamo senza fare gesti o dire le parole del rito e così via. Questo è lecito purché vi sia una causa, non è lecito e basta. È lecito un'assistenza passiva purché vi sia una causa e anche purché non si dia un cattivo esempio, perché se con questa mia partecipazione qualcosa non è chiaro di quello che sto facendo e qualcuno potrebbe pensare che in effetti io accetto quello che succede lì, è anche in questo caso meglio astenersene. Questa è sempre una dottrina molto chiara, così come se io stesso potrei magari interiormente cedere alle lusinghe, alle seduzioni di quella falso rito, di quella falsa fede eccetera, con la mia presenza. Se mi metto in pericolo allora neanche la causa mi giustifica. Qui c'erano due puntualizzazioni che le chiederei di fare perché mi sembrano molto importanti, per i nostri ascoltatori. La prima è circa la distribuzione dell'Eucaristia, della Santissima Eucaristia. I fedeli che hanno intuito che c'è la crisi danno molto peso negativo alla presenza magari di distribuzioni, di ministri donne, cioè che distribuiscono l'Eucaristia donne. Poco peso se invece colui che distribuisce l'Eucaristia è un laico, non sacerdote ma è un uomo. Invece in un certo senso la presenza di una donna che distribuisce l'Eucaristia è solo un elemento in più aggravante ma non è la sostanza del problema. No no, la sostanza del problema è la distribuzione della comunione da parte di laici. Appunto come accennavamo è del tutto contrario a una definizione del Concilio di Trento, perché ministro dell'Eucaristia appunto è il sacerdote e eventualmente il diacono che ricorda il ministro ordinato. Lasciamo stare che oggi esistono persone sposate che vengono ordinate diaconi che è del tutto bizzarro, non dovrebbero esercitare i loro ordini certamente, ma comunque non può essere il fatto dei laici in nessun modo. Questo appunto va contro una parte della dottrina della Chiesa, non è solo una pratica sacrilega o molto grave perché profana l'Eucaristia, c'è anche questo, ma ancora di più mette in dubbio una verità della fede, indirettamente in un certo senso va ad attaccare una verità della fede. E quindi di nuovo la mia presenza, anche se andassi a comunicare dal sacerdote, indica che io in qualche senso accetto quello che sta succedendo, sono partito di quel contesto e mi va bene. Ecco, Don Mauro, un'altra domanda che penso solga spontanea in molte persone, mi faccio un po' interprete di quello che a volte sentire comune anche nel mondo legato in modo più o meno diretto più o meno latamente alla tradizione. Il problema quindi in fondo non è tanto lingua latina vernacolo, lingua latina, lingua volgare, lingua corrente. Potremmo dire che, anche se questo è uno degli aspetti che assume il modernismo liturgico, che sulla scia della tradizione luterana protestante e diciamo eretica in generale, detesta il latino liturgico e cerca il volgare, come Lutero fece, o anche prima di lui Wycliffe, Hus e via dicendo. Ma è giusto o sbagliato affermare che il vero problema, più del latino sì o volgare sì, è sostanziale, è di dottrine, di dogme? Certo, il latino è un elemento certamente del problema e non si può sottovalutare, non è che la traduzione sarebbe senza problematiche, una semplice traduzione della messa tradizionale sarebbe accettabile tu cura, sarebbe discutibile comunque. Il latino è un importante segno di questa stessa distinzione appunto tra il ruolo del fedele che chiaramente abitualmente parla volgare e quello del sacerdote, anche tra lo spazio sacro e quello profano, è un indicatore molto importante, oltre al fatto che la dignità di una lingua antica serve a rendere la messa qualcosa di diverso chiaramente. E la chiarezza è espressiva. Non è solo un fatto pratico, ma certamente qui appunto va sottolineato questo, se fosse vero che il problema è semplicemente quello della lingua, noi avremmo avuto una traduzione della messa tradizionale in volgare, ma questo non è assolutamente il caso, chiunque abbia un messale nuovo, un messale antico può comparare e vedere la totale alterazione di tutto quanto l'impianto della messa. Quindi questo non può avvenire se non con un preciso disegno e per significare delle verità, o meglio delle non verità di fede che cambiano. Chiaro. Ecco, una cosa che credo possono condividere tutti, cioè la nuova messa appare diciamo artificiale, è creata, lei diceva, tavolino, creata in modo del tutto artificiale. Questa rottura che la nuova messa, la messa di Paolo Sesso, stabilisce con una tradizione millenaria. È corretto dire che non ha precedenti, perché qualcuno potrebbe opporre che in fondo la messa ha avuto sempre qualche piccola evoluzione, abbiamo avuto molti riti nel passato della chiesa, fino a Trento e poi anche dopo Trento, messe gallicane, messe di varia natura, perfettamente ortodosse, perfettamente accettate da Roma, ma diverse. Perché questa osservazione non vale per la messa di Paolo Sesso e si può dire che invece è rottura? Ma la molteplicità dei riti, che è una cosa che la chiesa ha sempre conservato, prima di tutto è una molteplicità di riti apostolici, o comunque di origine apostolica o patristica. Tutti questi riti hanno una evoluzione, certo, non sono stabili, ma un'evoluzione naturale, potremmo dire, nel corso del tempo. Quindi si continuano a rispettare quello che è stata la loro storia e si arricchiscono, si integrano, si esplicitano nella storia del rito romano, in questo è molto chiara, cioè noi abbiamo tutti gli elementi che c'erano nell'antichità che si sono poi un po' più esplicitati, ma non vi è una grande differenza, se uno conosce bene la storia dei riti, tra l'alta antichità o quello che ne conosciamo e la messa tridentina, detta tridentina. In realtà vi è una differenza molto piccola e solo su elementi secondari, tra l'altro, mentre le grandi linee, i grandi punti della messa, anche le preghiere più antiche sono sempre le stesse, di origine patristica. La molteplicità dei riti, vede, qual è il problema? La differenza con la messa di Paolo VI. Se io voglio esprimere un concetto, non importa in quale lingua lo esprimo, per fare un esempio, non parlo adesso dell'attività ma qualsiasi concetto, anche se dovessi dire buongiorno, lo posso dire in francese, in italiano, in tedesco, ma l'importante è che io dica sempre buongiorno. No, la molteplicità dei riti è semplicemente questo, dire buongiorno, per così dire, in tante lingue. Ma dico sempre quella parola, quella è la cosa che io voglio dire. Nel Paolo VI il linguaggio va ad esprimere qualcos'altro, a parte che il linguaggio stesso in questo caso esprime qualcos'altro, ma viene a dire non più buongiorno, ma supponiamo buonasera, capite? E semplicemente si vuole cambiare il contenuto delle cose, non solo il modo in cui sono espresse. Il modo in cui sono espressi quei concetti è stato sempre molteplice e anche in un certo modo mutevole, ma relativamente mutevole. Questo mi consente alla battuta, questo dovrebbe rendere più prudente le persone, chiamiamole così conservatori o affini, che si compiacciono, magari ho sentito in passato, di riti di Paolo VI, detti in latino, con incenso, con chierichetti, con grande fasto esteriore, anche con il latino, ma la messa diceva in latino buonasera, anziché buongiorno, c'era una messa di fatto. Bisogna stare attenti a questo inganno, a questa seduzione del rito di Paolo VI, detto in modo pseudo-tradizionalista. Non so se mi spiego. È una cosa pericolosa in quanto l'ambiguità in qualche modo è più seducente, più pericolosa per chi magari ha una buona intenzione, che è la netta rottura, che è il netto equivoco, che è la netta... L'ambiguità è molto pericolosa. In materia di fede non possiamo evitare solo l'errore esplicito, ma dobbiamo evitare anche l'ambiguo. Quindi una nuova messa, anche quando è celebrata appunto in queste forme e così, è sempre ambigua, ha sempre degli elementi di mancanza di chiarezza nella trasmissione della fede. Aggiungo solo una cosa, ma il fatto stesso che questa messa venga creata, perché tale è stata creata, alcune delle sue parti più importanti sono state scritte ex novo, gli elementi tradizionali in realtà sono svuotati del loro significato, sono incollati qua e là, sono delle piccole cose riprese così. Com'è possibile in una società come la Chiesa, dove c'è la tradizione, c'è la trasmissione della fede, è tutto, che io rifondi ex novo, tra l'altro non solo la messa, ma la liturgia di tutti i sacramenti, tutta la liturgia dall'Ada. Ordinazioni episcopali, ordinazioni sacerdotali. Ma tutti i sacramenti, tutto il culto, tutta la liturgia laudativa, quindi diciamo il breviario, per capirci, tutto quello che costituiva la liturgia della Chiesa è stato manomesso dall'A alla Z, non è stato risparmiato una virgola. Ora, questo tipo di atto, anche da solo, anche se si fosse continuato a dire buongiorno, per assurdo, per assurdo, non mi sta dicendo che chi lo ha fatto vuole ripartire da zero, quasi fondare qualche cosa di nuovo, una nuova società, una nuova Chiesa, eccetera. Questo è una delle grandi accuse, diciamo, gli antichi teologi dicevano, per capire la gravità di quest'idea, questa era un'ipotesi proprio per gli antichi teologi, dicevano, se per caso un Papa si immaginasse di cambiare tutte le cerimonie della Chiesa che la tradizione ci ha trasmesso, tutte insieme, sarebbe un Papa scismatico, dicevano, per far capire come fa il Papa essere scismatico, che sembra un controsenso, lui il capo della Chiesa, come fa a staccarsene? Dice, se facesse una cosa del genere, per esempio, assurdo, potrebbe essere un Papa scismatico, per far capire come era concepita la gravità di un atto del genere, come dire, noi cominciamo da zero, fino a qui c'è stato questo, adesso noi rifacciamo tutto. Anche se si fosse detto sempre buongiorno, sarebbe qualcosa di estremamente sospetto, di estremamente inquietante nella Chiesa. Il fatto che poi non si dica più nemmeno buongiorno, capite, che aggrava di parecchia la situazione. Certo, ma è corretto però dire, quindi, in fondo, che la riforma liturgica, che poi già l'espressione rende troppo onore, in un certo senso, direi che è impropria come espressione, la rivoluzione. La rivoluzione liturgica, l'azzeramento liturgico. L'azzeramento liturgico. L'azzeramento liturgico. L'abbiamo detto. E' però il figlio di una rivoluzione dottrinale, dogmatica, cioè in definitiva è il modo di manifestare in campo liturgico il più grave, in un certo senso, la rottura dogmatica e dottrinale con la tradizione di sempre. La vera posta in gioco è dottrinale, in ultima stanza. È corretto leggere così o no? Certo, è quello che stiamo appunto cercando di vedere. Vi è come l'inizio di una chiesa che ha una nuova dottrina, come, chiaramente, bisogna poi capire, di una chiesa che ha una nuova dottrina e quindi un nuovo culto, necessariamente. Non esiste un'eresia, un riformatore, tra virgolette, come quella di protestanti, eccetera, che non abbia anche istituito un nuovo culto. È impossibile, no? Perché se tutte le verità della fede, a maggior ragione che riguardano l'eucaristia, vengono cambiate, deve essere cambiato anche il culto. E qui è stato fatto lo stesso procedimento, esplicitamente per avvicinarsi ai protestanti, alla concezione protestante della chiesa, della messa, della gerarchia, della presenza reale. Ne abbiamo parlato poco, ma è ben noto come l'ostia consacrata sia, diciamo, scarsamente considerata nel nuovo rito, no? Tra distribuzione nelle mani, mancanza di segni di riverenza, anzi, soppressione metodica dei segni di riverenza che erano presenti nell'antica messa. C'è stata proprio una metodica soppressione. Le balaustre tolte, no? Le balaustre. Le balaustre indicavano, tra le altre cose, appunto questa separazione, che forse è la cosa più notevole e comune, appunto, a tutti quei riti che abbiamo accennato, orientali e occidentali, dall'antichità, la separazione tra i guerri fedeli era pesantemente visibile, proprio visibile. Questo è stato, più che volentieri, annullato, appunto, se si ritrova intorno a questa tavola, piuttosto che in due spazi separati, in uno nel quale si sbogge l'azione e l'altro nella quale si ricevono. Nel rito romano, tra l'altro, in cui c'era più visibilità rispetto ai riti orientali, dove il sacerdote è chiuso dietro questa iconostasi, no? Nel rito romano, diciamo, post-tridentino, il sacerdote si vede, certo, più facilmente, ma per esempio non si sente, perché il canone e le parti più sacre della messa sono recitate a voce bassa, no? Come a isolarlo, a far capire che è lui che sta facendo qualche cosa, non il popolo riunito, diciamo così. Un'altra domanda, diciamo, forse è un po' difficile a corrispondere, ma ci sono letture critiche della messa di Paolo VI che, enfatizzando gli aspetti antropocentrici e in un certo senso io li definisco come criptopanteistici, una sorta di panteismo aleggiante nell'offertorio, eccetera, alludono a una simbologia che potrebbe essere, diciamo, un senso lato massonica, ecco, qualcuno ha visto anche questo, per esempio la stretta di mano che non c'è nel rito tradizionale ricorda una particolare catena dove di fatto i massoni si stringono le mani, ecco, è troppo temerario pensare questo o c'è un fondamento almeno potenziale in queste osservazioni? Più che in dettagli rituali vedrei questo tipo di lettura nell'impostazione di questa messa nel suo, appunto, antropocentrismo, per cui la dimensione di culto verso Dio, eccetera, viene molto messa in sordina rispetto alla riunione degli uomini che fanno qualche cosa, questo fare qualche cosa, realizzare in questa riunione un evento in cui si costruisce qualche cosa. Forse l'elemento un po' più esplicito in questo senso è quello del nuovo offertorio dove si offre a Dio, perché così dice il testo latino, ti offriamo questo pane frutto della terra e del lavoro dell'uomo e questo vino, no? Nel vecchio offertorio quello che viene offerto per anticipazione sono già evidentemente il corpo e il sangue di Gesù Cristo, l'unica cosa che si può offrire a Dio, l'unico sacrificio, l'unica offerta possibile. Nel nuovo rito si offre qualcosa costruito dall'uomo, quindi non pane in senso che diventerà il corpo di Cristo, ma specificamente questo pane frutto della terra e del lavoro, questo vino frutto della terra e del lavoro, quindi lì c'è qualcosa di abbastanza chiaro, c'è la volontà di offrire qualcosa costruito da noi, lì c'è qualcosa che fa capire, poi tutta l'impostazione è certamente antropocentrica in modo piuttosto chiaro, quindi Dio sta nella idea, lo dice la definizione dell'introduzione alla nuova messa, che la presenza di Dio, la presenza reale, così la chiamano, non è solo nell'eucarestia, anzi quella viene citata per ultima, ma viene citato nella parola, eccetera, e viene citato esplicitamente nel popolo che si riunisce, quasi che fosse la stessa cosa, quindi questa presenza di Dio fosse ugualmente nell'ostia consacrata, nell'assemblea o nella parola proclamata, senza apparenti distinzioni, questo sì può essere un ecopanteista, del resto è quello che si vuole mostrare anche in come il rito viene di fatto poi svolto e appunto interpretato, sempre in senso peraltro. Un po' la dialettica messa di Abele che offre un'ostia, una vittima, messa di Caino che offre i frutti della terra, ecco. È una cosa che si disse già negli anni 70, che la nuova messa con questa offerta dei frutti della terra, pareva essere la messa di Caino appunto che offriva a Dio la terra, l'unico che si vantava di questo. Questo è curioso, mi scusi se interrompo, perché in effetti ci sono forme antiche di eresie diciamo Cainite, nel senso che esaltavano figure negative come Caino, Giuda, non dimentichiamo che esiste anche questa forma di eresia che simpatizza con le figure del male anziché con le figure del bene, ecco, questo è triste dirlo. Certo, è tutto il senso dell'agnosi, cioè dell'antireligione, di rovesciare Dio stesso viene fatto passare dalla parte dei malvagi e il diavolo dalla parte dei buoni in questo tipo di letture, quindi chiaramente è normale fare poi la stessa operazione con i personali. Don Mauro, tranquillo, un riferimento a quanto ha più ripetutamente insegnato Monsignor Lefebri, il quale, se ricordo bene, nei suoi testi sulla messa distingueva tra validità e legittimità. E qui, sottolineando che la messa di Paolo VI può essere valida, ma non è comunque legittima. Questa dialettica fra validità e legittimità è corretta e così impostata ovviamente? Comunque oggi potrebbe avere delle insidie anche questa distinzione, perché io ho sentito persone dire comunque è valida, quindi io vado perché è valida. Cioè, qual è la differenza tra validità e legittimità? Qual era la mensa di Monsignor Lefebri? Ma è una cosa molto normale nella teologia della Chiesa, nella prassi, nelle leggi della Chiesa, è facilissima anche da capire se uno lo pensa e capisce. Un sacramento è valido quando si realizza nel modo in cui è stato istituito da Cristo, quindi in cui io metto insieme la materia e la forma e do il sacramento, è valido. Ma la validità di un sacramento è ben altra cosa rispetto al fatto che sia una cosa buona, lecita, legittima, come si dice. Quindi io ci posso andare e partecipare, no? Perché io non vado a fare battezzare una persona, non vado a fare battezzare il suo figlio dal ministro protestante, tanto può darsi che dia un battesimo valido, alcuni ministri protestanti danno dei battesimi validi, ma nessun cattolico si sognerebbe di andare a far battezzare i figli lì, si spera. Perché? Oggi, oggi forse. Pur essendo valido, quel battesimo, quindi mi darebbe gli stessi effetti, specialmente in un bambino che non ha personalmente ostacoli, no, alla grazia, di un battesimo fatto in parrocchia, esattamente gli stessi, la grazia, eccetera. Perché non vado lì? Perché andando lì mostro di credere a quello che crede quello là, e quel contesto lì si dice, si fa. Quindi io non vado lì perché non voglio mostrare di credere a quelle cose, che io ci credo, no, non voglio mostrarlo se voglio restare cattolico. Quindi un sacramento valido, di per sé, non mi dice sacramento a cui tu puoi partecipare senza problemi, in nessun caso, non è mai stato così. La validità va oltre le città perché deve essere sempre molto certa, il più certa possibile, Dio ha voluto così perché i sacramenti fossero inattaccabili, per così dire, una volta che compiuti correttamente. Ma possono essere traviati appunto da un contesto di eresia a cui io non posso partecipare. Ad esempio il ministro protestante è facile, immediato lo capiscono tutti. Perciò se il contesto della nuova messa è tale che io vado ad accettare con la mia presenza degli errori inaccettabili, la validità non mi dice niente, non mi aggiunge niente. Cioè non mi qualifica, mi obbliga lo stesso a non andare. Anzi, avrò un vero e proprio sacrilegio dal momento in cui c'è un sacramento valido, compiuto però in quelle condizioni. Quindi a maggior ragione non ci devo andare. La validità è un problema solo secondario nel fatto della nuova messa. C'è un problema in alcuni casi di invalidità. Ma questo è a valle, a monte c'è il problema della fede. E se io non ho quello, non ho risolto quello, non posso andare a un sacramento valido. Io non posso andare alla messa degli ortodossi, per esempio, che è considerata a tutti gli effetti valida. Ma la chi non dice che ci puoi andare, perché vorrebbe dire accettare quella loro fede, tra virgolette. E quindi non ci vai, non ci puoi andare, in nessun caso. Certo, certo. Qui c'è un po' il conflitto, diciamo, che però va risolto appunto a favore della fede fra il precetto della Chiesa, dell'assistra, la messa domenicale e il comandamento di santificare le feste. Devo, come dire, privilegiare il santificare la festa sul precetto che è un comandamento di Dio, quindi inderogabile, senza incondizionato, sul precetto della Chiesa che non mi può obbligare a seguire un rito che è valido, ma non è buono, non è legittimo. Per diritto divino io non posso fare qualcosa che vada contro la fede, quindi non posso andare a un rito così. La legge ecclesiastica normalmente dice di andare a un rito cattolico, non a qualsiasi funzione valida o non valida, ma a un rito cattolico, quindi che esprima la mia fede, che esprima la mia fede. Non santifico la festa, certamente, recandomi in un luogo dove si disonora la fede, si disonora la religione, si disonora l'ostia consacrata, non so. No, se io capisco che, dico la cosa più semplice, dare la comunione in mano, farla dare dai laici, non va bene. È anche un sacrilegio, ci sono persone che lo capiscono. Come posso pensare di santificare la festa andando ad un rito dove questo avviene, dove avviene un sacrilegio? È una contraddizione, chiaro, quindi non sono obbligato ad andare lì. Se non ho altre possibilità, come è ben noto, il precetto si è dispensato per la distanza o per tanti altri motivi, ma certamente andare a santificare la festa lì dove io sono cosciente si commetta un sacrilegio non ha senso. Senza parlare degli altri problemi che sono generali. Godomaro è un tema che accendo solo perché penso meriterebbe e meriterà in un certo senso un intero o altro incontro. Il discorso della musica liturgica. Fra i fedeli, di buona volontà, spesso un sensore che si accende, rivela che qualcosa non va, è famoso il fatto che è la nuova musica, perché curiosamente anche la musica è cambiata completamente, è stato distrutto il canto gregoriano dalla messa di Paolo VI. Questo aspetto possiamo considerarlo solo un inestetismo, un problema di cattiva musica o è giusto riconoscere che il rito antico aveva nella musica comunque un elemento che ne denotava la cattolicità, che lo distingueva dagli altri? Ecco, cosa ci può dire di brevissimo in attesa di una futura, speriamo, trasmissione qualcosa. Che dire della musica? Nella messa tradizionale è una parte del rito, a tutti gli effetti, perché per esempio la cantillazione da parte del celebrante, di alcune parti, lo stesso canto gregoriano con i suoi antenati è qualcosa di apostolico, qualcosa che era tipico del culto antico, del modo di declamare antico, non si recitava una formula ma si cantava nel culto sempre. Questo ci deriva certamente dagli apostoli, la tradizione apostolica. Però la musica nella Chiesa nel corso del tempo, che ha avuto anche forme non sempre costanti, ci sono state anche cose diverse nel corso dei secoli, secondo San Pio X deve avere il carattere di universalità, cioè non può essere qualcosa di legato a una cultura, deve essere una musica universale, comprensibile, diciamo così, e di santità, lui dice. Quindi deve ispirare la santità di quello che sta avvenendo. Questo deve essere la caratteristica della musica sacra e chiaramente per eccellenza del gregoriano. Ora una musica che è solo legata a delle mode, per esempio, non può essere universale. Una musica che riprende la musica leggera, diciamo, che corre oggi, non può pretendere universalità tantomeno a santità o sacralità. E questo fa capire immediatamente che non si è più nel corso di nazione sacra. Ma guardi che qui c'è un concetto anche qui dietro. Se io considero che la Messa è l'opera della comunità, la devo incarnare il più possibile in quello che la comunità è attualmente, non in quello che mi ha dato il Cristo, eccetera. Devo esprimere quello che vive la comunità. Se la comunità giustamente nel tempo di oggi vive in quel modo, con quel tipo di musica, per capirci, dovrà esprimere il suo culto, costruire il suo culto con il suo tipo di musica, con le sue necessità di oggi. Tutto questo modo di attualizzare la Messa, anche in situazioni estremamente concrete, pensiamo alla barca Lampedusa, quando il Papa andò con il barcone dei migranti, eccetera. Tutto questo ci fa capire che secondo loro la liturgia deve proprio attaccarsi nemmeno all'attualità, quindi a quello che vive la comunità. Non può essere qualche cosa al di sopra di questo, perché è la comunità che agisce. Quindi la musica, tutti questi strani gesti, strane cose che fanno, entrare in bicicletta, eccetera, devono dirci che è proprio adesso quelle persone lì, nelle loro cose abituali, che fanno una cosa insieme. Non c'è niente che viene da più in alto. Quello che esprime questo viene allontanato il più possibile dalla nuova Messa. Ecco, questo è un'obiezione che non è raro sentirsi fare. Penso sia sempre stata fatta sia dai progressisti, sia dai conservatori, sia da chi non riesce a risolvere questo dilemma. Cioè il Papa è il supremo liturgista, il supremo legislatore anche in materia liturgica. E l'obiezione che si potrebbe fare è, ma non è assistito infallibilmente nel dettare una legge universale alla Chiesa in materia liturgica? Come si spiega che il Papa promulga una legge così delicata, su una materia così delicata, che però purtroppo non è cattolica? Cioè promulga una legge che istituisce una Messa non cattolica? Questo è uno dei grandissimi problemi, certamente, che però si scontra contro i fatti che abbiamo visto questa Messa, è stata vista come allontanarsi dalla teologia cattolica fino dal 1969, dal 1969, dai cardinali Ottaviani Baci, da persone autorevolissime. Quindi c'è qualche cosa che si scontra con la realtà, effettivamente. Bisogna capire come uscire da questo dilemma. Abbiamo una Messa che certamente e oggettivamente si allontana da ciò che i Papi, il Magistero, ci dicono della Messa. Non è che noi ci inventiamo una dottrina, quello che diciamo, sono cose che ci dicono i Papi, quindi sappiamo già essere rivelate. Come facciamo a dire che, appunto, effettivamente è vero, se un Papa fa una legge liturgica dovrebbe essere conforme, non perfetta, ma conforme alla fede. Esattamente, noi abbiamo detto finora che non è così. Invece l'infallibilità garantirebbe al Papa che quella legge che lui fa, magari più o meno ben fatta, ma non può andare contro la fede, non può non essere l'espressione della fede. Quindi noi abbiamo finora negato tutto questo, effettivamente. Allora, come si compone questo problema? Purtroppo non è semplice, ma è possibile cercare una linea di soluzione nel vedere come la volontà di insegnare il Magistero, quindi di dire cosa Dio ha insegnato, eccetera, è venuto meno nel Papato. I Papi fanno sì, possono fare atti infallibili quando vogliono insegnare qualche cosa a tutta la Chiesa, attingendo alla rivelazione. Ora, questa volontà sembra scomparsa per tanti motivi, no? Per la mentalità modernista essi vanno a cercare quello che oggi si dice, non quello che ha detto Gesù Cristo, per dire qual è secondo loro la volontà di Dio. Allora, il fatto che questa volontà di insegnare sia venuta meno, questo sì, forse richiederebbe un'altra conferenza, il fatto che questa volontà di insegnare sia venuta meno, probabilmente si può applicare anche a quell'aspetto magisteriale che avevano le leggi liturgiche, perché la legge liturgica non era solo l'ordinamento della volontà di dire devi fare così e così e così, ma era anche appunto l'espressione, come abbiamo visto, delle verità di fede. Nel momento in cui la mia volontà di insegnare verità di fede viene meno, il mio atto legislativo sarà solo a impegnare la volontà, quindi tu devi fare così, non devi più dire quel messaggio, devi dire questo, eccetera, ma non ci entrerà più con quell'altro aspetto della legge liturgica, verrà a venire meno, per la volontà del Papa, non perché non possa farlo, ma perché non lo vuole più fare, vuole separare le due cose in qualche senso. Ecco, penso che questa sia la via di uscita. Il venir meno della volontà di insegnare rende l'atto non più infallibile, ma lo rende fallibile, lo rende un atto passibile di errore. Il fatto di insegnare delle verità di fede nel senso in cui si intendeva abitualmente è venuto meno in generale, per tanti motivi che bisognerebbe spiegare, e quindi si può applicare, penso anche alla questione della messa o della legge liturgica, il venir meno di questo aspetto, che era tutt'uno un tempo, ma era tutt'uno perché i papi volevano unire queste cose, volevano che fosse così. Se non vogliono più, il loro atto diventerà un atto fallibile, effettivamente. Ripeto, non vogliono, non è che non possono, se sono papi potrebbero, ma la loro mentalità oggi si muove diversamente. Diciamo, i nemici della Chiesa, mi pare che, ma le chiedo se ricordo bene, si compiacquero un fondo della riforma liturgica, perché i nemici della Chiesa videro abbattuti bastioni, la liturgia è anche un bastione, per così dire, è la bandiera più importante in un certo senso della cattolicità, per non dire della sua natura, anche potremmo dire, mi correga se uso un'espressione troppo forte, di esorcismo in un certo senso, cioè di fatto di, in fin dei tempi dei padri, una lotta con i demoni che passava anche attraverso il fatto che si iniziava a dirla messa in una regione, in una città, in un luogo che veniva santificato dalla stessa celebrazione. I nemici gioirono e in particolare mi risulta che i paesi dell'est, ai tempi comunisti, di fatto per quello che potevano però, come dire, appoggiarono nei paesi cattolici, penso alla Polonia, si compiaccono del nuovo rito, insomma, queste sono prove in fondo che chi vedeva dall'esterno, odiando la Chiesa, la riforma, l'apprezzò, è abbastanza inquietante come aspetto, non so se ricordo bene. Sì, questo vale anche per molti protestanti, appunto che, di ottimo occhio diciamo, il cambiamento, anzi dichiararono di poterlo essi stessi assumere, con un messale che ormai non esprimeva più le differenze dottrinali che loro avevano con la Chiesa Cattolica. Ma guardi, questo è un discorso anche molto più escatologico si potrebbe dire, perché secondo i padri quello che ferma l'avvento dell'anticristo è proprio il culto dei cristiani, l'espressione della fede dei cristiani tramite delle istituzioni e tramite il culto, la preghiera pubblica. Se questa preghiera pubblica viene meno, è chiaro che le forze anticristiche guadagnano spazio. Più questa preghiera pubblica nella sua forma normale, corretta, arretra, più diventa rara, più diventa isolata, più non può sparire, certo perché qualcosa fino alla fine del tempo deve sempre necessariamente restare, ma più arretra, più le forze anticristiche in senso proprio escatologico hanno spazio di avanzare. È come se l'esecuzione stessa del culto cristiano nella sua forma, come espressione esterna visibile della fede, fosse una barriera all'avvento dell'anticristo. Una volta che questo viene a diminuire, chiaramente queste forze hanno spazio di agire, non solo demoniache in senso generico, ma anche proprio anticristiche in senso escatologico. Certo. Questo ci ricorda che durante il regno dell'anticristo, i tre anni e mezzo di regno dell'anticristo, sembrerebbe profettato fin dal profeta Daniele che il santo sacrificio sarà soppresso, reso impossibile, se ricordo bene. Sì, bisogna essere attenti a questa lettura in senso che sicuramente sarà estremamente una soppressione totale, a mio avviso, a mio avviso, questa è una questione di esegesi molto sottile, per cui non voglio dare un'opinione obbligatoria, ma a mio avviso non può essere una scomparsa totale dei sacramenti, perché questo andrebbe contro altre promesse del Cristo molto chiare, quindi la possibilità di accedere ai sacramenti potrà diventare molto difficile, molto remota, ma non sparire del tutto, a mio avviso. Certamente l'anticristo farà guerra a questo, come è ovvio, e perseguiterà chi dà i sacramenti, chi riceve i sacramenti, eccetera, renderà molto difficile, già oggi questo avviene, certo, renderà molto difficile l'accesso ai sacramenti. A mio avviso dire che questo diventi del tutto impossibile, assente, andrebbe contro altre promesse di nostro Signore che, a mio avviso, sono molto chiare sul fatto che comunque l'economia di salvezza, essendo legata ai sacramenti, questi devono durare fino a che questa economia dura, cioè fino all'ultimo giorno. L'indefettibilità della Chiesa. L'indefettibilità di quell'economia di salvezza che Cristo ha messo in atto. Poi, appunto, la grande difficoltà di accedervi è, secondo me, il senso di quello, quando si dice appunto la scomparso, comunque, del sacrificio negli ultimi tempi. Non può essere, a mio avviso, una scomparsa totale. Certo. Ecco, due velocissime ultime osservazioni con cui andrei a chiudere questa interessante conversazione. La prima era, se vuole, è una curiosità, ma credo che sia giusto affrontarla, ovvero, se è giusto o invece si potrebbe fare un'opzione più decisa, considerare equipollenti le espressioni messa di San Pio V, di sempre gregoriana, perché c'è una strana, come dire, fluidità fra queste definizioni. A suo parere, quella è quella più corretta? Messa di sempre era un'espressione cara, in particolare a Monsignor Lefebvre, che dice molto, in effetti, la messa romana, come la conosciamo nel messale tridentino, è di sempre, nel senso che se uno ne conosce bene l'evoluzione, capisce che ha tutti gli elementi dell'antichità che non sono scomparsi, ma si sono a limite esplicitati in qualche punto e in gran parte sono rimasti addirittura intatti. Quindi dire messa di sempre è molto chiaro, messa di San Pio V indica quello che l'ha promulgata l'ultima grande versione di questo messale, chiaramente, o tridentino è la stessa cosa. Penso non sia importante fare una questione di termini, certo bisogna evitare termini che sembrano rendere la messa di San Pio V un'opzione rispetto alla messa di Paolo VI, ecco, come se fosse un messai di San Pio V, di Paolo VI, una messa ordinaria e una straordinaria, ecco, questo io lo eviterei perché non si possono equiparare le due cose, dipende sempre cosa si intende quando si usano i termini. Certo, comunque messa di sempre forse è un suono più forte. Dice molte cose, dice anche appunto questa volontà di restare collegati alla tradizione dei padri, alle radici della Chiesa, appunto alla tradizione, appunto potremmo dire in senso vero del termine, anche messa tradizionale in questo senso si può capire, e non di fare riferimento a una creazione artificiale, appunto, che ricomincia tutto da zero. L'ultima cosa, un'ultima osservazione, è famoso l'episodio di, mi pare, sei teologi protestanti o addirittura pastori protestanti che furono invitati a partecipare alla messa a punto della liturgia di Paolo VI. Questo a me pare, come semplice e fedele, parlo già in sé uno scandalo enorme, cioè che degli eretici siano invitati, ma esistono fonti documentali che chiariscono l'effettivo ruolo, cioè ci fu davvero un apporto, perché c'è chi dice che la messa di Paolo VI era ripresa anche alla lettera della messa di Kramer, della messa anglicana dai tempi di Kramer, hanno fatto degli studi anche su questo, ma ci sono prove che effettivamente l'apporto fu vistoso, fu concreto, diciamo? Sì, negli ultimi anni sono usciti alcuni studi anche sulla partecipazione non solo, e anche documenti sulla partecipazione non solo, così simbolica, che già sarebbe grave, dei pastori protestanti, ci sono usciti gli atti della commissione, del considium, che si chiamava per mettere in atto la riforma liturgica, questi atti dimostrano la partecipazione più, non solo appunto così, onorifica di questi personaggi. Sicuramente la cosa bizzarra, bizzarra, curiosa, interessante è che la messa nuova assomiglia sia alla messa anglicana nella sua versione di Kramer, quindi nella versione più calvinista, perché la liturgia anglicana in realtà sia prima sia dopo Kramer era molto meno, come dire, almeno la sua versione ufficiale, almeno, per quanto la liturgia anglicana non era così esplicita in certe cose. Quella di Kramer era proprio non nemmeno luterana, ma calvinista, quindi la taramensa è tipico del calvinismo, non tanto del primo luteranesimo, né dell'anglicanesimo prima e dopo Kramer. Quindi paradossalmente la messa di Paolo VI ha ripreso gli elementi della riforma anglicana nella sua fase più calvinista, piuttosto che nelle sue fasi concilianti o di via media, come si diceva, quindi sia al tempo di Enrico VIII, che non voleva più di tanto toccare la liturgia, sia nel tempo successivo quando si è cercato un compromesso. Qui hanno preso la fase più acuta, diciamo, di calvinismo, che è paradossale. In Inghilterra fino a pochi anni fa, fino al concilio si può dire, i cosiddetti altari dove avveniva la liturgia anglicana, non quella calvinista in Scozia per esempio, erano altari orientati, non rivolti al popolo. Tridentini, tridentini. Sì, non erano proprio altari veri e propri, comunque erano mense rivolte verso l'abside diciamo delle chiese, che è un paradosso. Quindi l'Inghilterra ha avuto l'altare a mensa solo in quel breve periodo ed è quello che è stato ripreso nella nuova messa, al punto che gli anglicani stessi e alcuni luterani che avevano ancora, diciamo, degli altari, delle mense orientate, essi stessi hanno dovuto dire sì, allora mettiamo anche noi delle mense, perché se lo fanno i cattolici come facciamo? Noi non lo facciamo. Quindi in molte chiese, in generale in Inghilterra, in molte chiese tedesche, l'altare o la mensa rivolta al popolo, paradossalmente è apparsa dopo il concilio e non c'era prima. Abbiamo corrotto anche protestanti. Per carità, erano liturgie eretiche per tanti altri versi, ma avevano questo orientamento che era rimasto, era stato ripreso per vari motivi. L'ultima cosa è questa. Mi ricordo che quando, diciamo, nella pienezza della solidità dottrinale, un sacerdote che modificasse senza motivo le rubriche liturgiche, era sospetto di eresia. Le rubriche erano molto importanti, venissero rispettate alla lettera in un certo senso e dal mio punto di vista le rubriche permettono che scompaia la figura soggettiva del sacerdote a favore del ruolo e questa è la cosa straordinaria della messa di sempre. Nel nuovo rito si ha la sensazione che le rubriche in un certo senso non c'erano più, cioè si è scomparso il concetto di rubrica esasperando il problema. Ma ora è giusto dirlo o no? Io vedo spesso, credo che ci sia una dissoluzione del concetto di rubrica. È troppo forte questa espressione o si può sostenere? No, guardi, le antiche rubriche obbligavano sotto pena di peccato, quindi chi le avesse trascurate per negligenza, per trascuratezza, avrebbe commesso un peccato più o meno grave evidentemente a seconda della materia. Chi le avesse volontariamente alterate, quindi non per errore o per trascuratezza, avrebbe commesso un peccato ben più grave appunto che l'avrebbe reso sospetto di eresia perché se tu ti arroghi il potere di modificare ciò che la Chiesa ti consegna, ci deve essere un motivo che non torna se tu fai questo. Per questo senso chi lo faceva era sospetto. C'è qualcosa che non va se tu ti pensi che si possa fare questa cosa qui. Quindi al tuo atto fa sospettare qualcosa. Nel nuovo messale esistono certo delle indicazioni, ma sono appunto indicazioni come di un canovaccio teatrale in cui ho delle linee, ho delle possibilità che poi devo comporre sia con la mia creatività sia per adeguarmi al contesto a cui mi trovo. Per cui appunto liturgia è sempre espressione del contesto dell'assemblea, in cui l'assemblea vive oggi tra l'altro, nemmeno in generale oggi. Questo fa sì che io debba avere una liturgia estremamente malleabile. Sono delle caratteristiche che fanno anche lì capire che c'è un concetto teologico diverso, la liturgia come evento, la chiesa come evento, non solo come struttura che fa delle cose eccetera, come evento che si avviene nel momento in cui avviene quell'atto. Anche a volte oggi si sente spesso dire, potrebbe essere buona, ma è l'eucarestia che fa la chiesa, vero? In un certo senso, è vero, in un certo senso. Ma viene spesso intesa come la chiesa esiste quando si riunisce per l'eucarestia. Questo vorrebbe dire che tra l'altro esiste anche in qualunque luogo ci sia un'eucarestia valida, anche presso gli eretici, ma non è proprio così. La chiesa è una struttura che la fa esistere e da questa struttura viene anche il culto, eccetera. Gli atti sono espressioni che denotano, non in tutti, ma in alcuni di quelli che le hanno forgiate, una teologia pericolosa appunto di stampo protestante, la chiesa come evento, la liturgia come... Quindi quell'evento deve essere il più possibile adatto a chi lo compie. Cioè l'assemblea. Modellarsi su chi lo compie. Ciò vuole una totale malleabilità, una totale apertura di possibilità. L'assemblea diventa un luogo teologico, no? L'assemblea... Assolutamente, assolutamente. Questo è il modernismo. Di questo fa pensare anche la liturgia amazzonica, la chiesa amazzonica e la liturgia amazzonica in fondo non si può a questo punto e con ciò chiudiamo collegare al nostro discorso? Se il concetto modernista è che Dio non si è rivelato una volta per tutte, ha detto delle cose che sono la realtà a me esterna, ma se il concetto modernista è Dio è, si manifesta, Dio è la storia degli uomini, la vicenda degli uomini, tutto quello che avviene è la manifestazione della rivelazione di Dio, dello Spirito Santo. Quello che avviene in Amazzonia è anche lì un luogo teologico da cui io devo tirare fuori quello che Dio mi sta rivelando oggi, per rispondere alle necessità di oggi. Quindi può essere anche un luogo da cui tirare una dottrina, per esempio su Dio, su quello che è Dio, il panteismo, eccetera, il ruolo tra il rapporto tra Dio e la natura, anche da cui tirare una prassi liturgica, perché no? Perché anche quello non lo devo più desumere da cosa credo, credo la plenità reale, il sacrificio, eccetera, quindi la mia liturgia dovrà esprimere questo. No, queste sono cose di un'epoca. Oggi devo esprimere quello che oggi Dio, lo Spirito Santo a cui io non devo resistere assolutamente, mi sta dicendo tramite degli eventi, specie, in certe aree, in certe zone particolarmente adatte a farmi capire. Intanto io la ringrazio molto per essere stato con noi, per averci chiarito tanti nodi riferiti alla nuova messa e spero di poterla sentire anche in futuro. Grazie ancora Don Mauro e buona giornata, buona domenica. Grazie, grazie mille, professore.